Allora, Sport e Solidarietà vanno a Braccetto, si sta per vivere un bel torneo prossimamente a Fano. Sì, è un concentramento del campionato regionale di Baskin, domenica 7 aprile, sono tre incontri, la prima è la mia squadra, il Baskin-Fanum, che gioca con i vichinghi, poi altri due incontri delle altre squadre partecipanti al campionato. Da dove vengono le squadre e qual è lo scenario dove si vedranno questi giocatori in campo? Allora, le squadre sono partecipanti al campionato Fano, Fermignano, Urbania, tre squadre di Pesaro e una di Montecchio, queste sono le squadre. Lo scenario è il palazzetto Salvatore Allende di Fano, dalle ore 9 fino alle ore sicuramente 1 e mezzo. Ecco, per chi non conoscesse che cos'è il Baskin? Il Baskin è uno sport, Baskin significa basket integrato, vuol dire che mette insieme tante diversità, diversità che possono essere d'età, diversità perché ci sono maschi e femmine, diversità perché sono integrati ragazzi con diverse disabilità, qualsiasi tipo di disabilità. Quindi non c'è il limite di età nella mia squadra, ma c'è il limite in basso che sono sopra i 14 anni. Ecco, vedremo agonismo e soprattutto tanta solidarietà. Vedremo agonismo perché quello che caratterizza questo sport è sicuramente la possibilità di ogni giocatore di dare quello che può, perché ognuno ha un suo ruolo e ognuno partecipa come può al risultato della partita. Ricordiamolo per il pubblico che vuol venire ad assistere a questo spettacolo e a questo bel momento di sport, quando, dove e come? Domenica 7 aprile, dalle ore 9 alle ore 13 sicuramente, al Palace Allende di Fano. Grazie. Grazie.